La dama torinese di uomini e donne presente come guest star a Temptation Island 2018, in onda da luglio su Canale 5. Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island, il fortunato reality show di Canale 5 in onda da luglio in prime time. Le anticipazioni di queste ultime ore rivelano che nel cast della trasmissione prodotta da Maria De Filippi approderà anche un volto noto al pubblico di uomini e donne, trattasi della dama torinese Gemma Galgani, tra le più amate in assoluto del trono ovea. Intanto il suo ex storico Giorgio Manetti ha rilasciato un'intervista molto forte al magazine di UED, in cui dice di sentire ancora la mancanza della dama. La dama Gemma Galgani guest star a Temptation Island 2018. Ma partiamo dalla grande novità di questa estate che riguarda la dama torinese Gemma Galgani, la quale stando alle indiscrezioni riportate in anteprima da Davide Maggio. It, sarà presente nel cast della prossima stagione di Temptation Island. Tuttavia la dama non sarà una delle concorrenti in gara, anche perché l'abbiamo lasciata a fine maggio che ha chiuso l'edizione di Uomini e Donne senza avere al suo fianco un principe azzurro in grado di darle quella felicità che cerca da tempo. E così si ipotizza che Gemma sarà la guest star di questa quinta edizione del fortunatissimo reality show condotto da Filippo Bisciglia. Al momento non si sa ancora se Gemma dispenserà consigli alle coppie in crisi, dando loro anche qualche suggerimento su come cercare di ritrovare la stabilità di coppia oppure dispenserà dei pungenti consigli riguardanti anche la sfera privata. Giorgio torna a parlare di Gemma, mi manca ancora. In ogni caso la presenza di Gemma Galgani nel cast del seguitissimo reality show di Canale 5 Ettari reso contentissimi gli spettatori da casa, i quali attendono con trepidazione la messa in onda del programma il cui debutto sarebbe previsto o il 9 o il 12 luglio. Giorgio Manetti Peccato, però, che tre anni fa la dama scelse di chiudere la loro relazione da un momento all'altro e da quel giorno Giorgio Manetti non è riuscito più a perdonarla.